Il periodo delle festività pasquali è sempre stato un termometro per chi amministra le città per valutare lo stato di salute del proprio territorio dall'ottica dell'appetibilità turistica. Se questo è stato un testo un po' viziato dalle previsioni del tempo non molto incoraggianti per le partenze dell'ultimo minuto, per quanto riguarda le prenotazioni, gli alberghi hanno fatto registrare il quasi tutto esaurito in sta grande maggioranza ad opera di famiglie, come ci conferma l'associazione albergatori che non ha ancora i numeri pronti ma che mostra elementi di soddisfazione. Chi ha i numeri certi invece non nasconde il suo compiacimento è l'assessore alla cultura e al turismo Stefano Marchegiani che dopo un'ottima sensazione a pelle nel fine settimana stamattina mostra numeri di tutto rispetto per le visite ai gioielli di famiglia grazie anche alle aperture straordinarie predisposte. San Pietro in Valle 400 ingressi, Rocca e Bastione segnano altrettanto. Sono dati molto interessanti perché registrano un cambio di tendenza, più gente in giro quindi ci fa sperare anche un po' una ripresa economica, i ristoratori che hanno lavorato e curiosità per le nostre collezioni, molta gente entrata a museo come si diceva prima pagando peraltro l'organizzazione nella città di tutti i monumenti aperti ha premiato indubbiamente perché c'è stato motivo di interesse perché volesse mettersi in cammino, molti sono entrati anche per visitare la corte ma la testiana dall'esterno e quindi unire la passeggiata tradizionale, un momento di riflessione di contemplazione dello spazio. Tanta gente al Bastione Sangallo grazie all'attività di lettura di animazione per i bambini quindi famiglia ma anche turisti, prevalenza ci dicono dati italiani ma adesso stanno arrivando i turisti. Siamo all'inizio di un percorso che va intensificato investendo nel museo, innanzitutto nei lavori di restauro come vedete questa mattina ci si occupa delle finestre che non sono manutenute da tanti anni, partiranno i lavori di impianalizzazione e come dicevo tempo fa approvato il bilancio nella scorsa giunta saremo in grado di affidare un incarico per rilievo architettonico del museo come è stato fatto, questo ci consentirà di attivare dei progetti di rilancio. Altro sito gettonatissimo è stato il museo archeologico e pinacoteca del palazzo Malatestiano e la sua splendida corte, i cui visitatori hanno trovato oltre ai reperti romani una esposizione temporanea a tema pasquale. È un legno dipinto di proprietà della congregazione di carità, oltre a questo c'è la bellissima deposizione che è un dipinto che viene dalla chiesa di San Pietro in Valle, esattamente dalla cappella del crocifisso e del pittore Vitali. Segue il classico Cristo Porta Croce di Scuola Veneta e poi io mi fermerei un pochino su questo che è un piccolo dipinto di un olio su rame particolarissimo perché anche sia la tecnica e la consistenza della superficie sulla quale è stato poi dipinto ed è di scuola tedesca. Questo qui è stato lasciato ad un lascito che è stata fatta una donazione che è stata fatta al museo. Tra l'altro l'espressione artistica di questo museo è a costo zero. Sì, le mostre che sono state organizzate, quelle sugli angeli dorati per Natale e questa sul Sacro Volto, i crocifissi linee che avete visto, sono frutto del grande sforzo e la grande capacità di iniziativa degli operatori del museo, la dottoressa Mignani che vi ha illustrato prima le opere in primis e quindi si cerca di fare economia con il fondo archivistico del museo e mettendo in valore quelle opere che possono essere contestualizzate nelle feste e quindi che attivano maggiore attenzione.